ciao ragazze ciao ragazzi bentornati e benvenuti sul canale oggi volevo farvi un video davvero molto veloce perché 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 ho fatto degli acquisti online sul sito di dem ma voi direte eli ci sei appena stata è vero avete detto giusto ma siccome non avevo trovato delle confezioni regalo dei kit che mi interessavano per fare dei regali a natale girovagando l'altra sera ho visto che erano disponibili e quindi li ho acquistati e ho detto perché non condividere con chi mi segue queste bellissime novità che non sono novità nel senso che nei negozi sono già uscite però io non li ho trovati erano già esaurite e avendo le trovate appunto disponibili online potrebbe essere che magari interessano anche a qualcuno e allora ve le faccio vedere sono davvero poche cose quindi una cosa breve spero ho indosso dei pendenti che non ho mai indossato in vita mia mi faccio vedere mi piacciono un sacco non so da che parte arrivino deve mi sa che me li ha regalati qualche amica ma tantissimi anni fa sono fatti con spero non so se li vedete avvicino così si vede anche il mio faccione con le linguette delle bibite in lattina coca cola poi ci hanno messo qualche perlina comunque mi piacciono un sacco sono azzurri sono colorati in tinta con i miei occhi verdi così per dire e quindi li ho indossati vi faccio vedere che cosa ho comprato li ho comprati per regalare ma devo dire che ne ho regalati due uno alla lucia e uno alla mia amica lella e gli altri due uno sicuramente lo terrò per me l'altro vedrò se regalarlo a qualcuno ma solo a chi se lo merita allora primo kit molto molto carino lo apriamo insieme e questo della casetta di marzapane che contiene quattro prodotti set bagno con doccia schiuma profumati con le seguenti profumazioni arancia e zenzero cocco e vaniglia mandorla e nocciola cioccolato e caramello lo apro con lo apro lo apro con voi mi spiace aprirlo ma volevo farvi vedere come erano come si fa aprire sta cosa vediamo dai dai lo apro scasso su tutto lo apro da sotto lo apro da sopra lo apro da sotto non lo so lo apriamo in che maniera che dolore l'ho aperto mi sento male ma l'ho aperto no adesso a parte gli scherzi so mi pare dopo vi metto nell'info box tutti i link perché inutile che so di riprezzi adesso tanto li troviamo fortunatamente sul sito dopo lo richiudo e lo incollo perché mi piace un sacco e sono davvero molto molto carini pucciosissimi e sono un regalo perfetto secondo me per fare un piccolo pensiero ad un'amica oppure se i vostri figli vogliono fare qualche regalo ad un compagno ad una compagna sono troppo 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 belli vediamo se riesco a tenerli tutti in mano insieme 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 no ma vediamo dai guardate che carini cicciosetti e i disegni sono davvero spaziali questo al cocco e vaniglia questo al zenzero e arancia questo alla mandorla la crema di mandorla mandorla e aspetta che lo leggiamo scusate mandorla e nucciola ok il primo che non vi ho fatto vedere ma non vi ho detto che cos'era è al cioccolato e caramello oh mamma mia che meraviglia e questi che ho aperto me lo tengo per me l'altro lo terrò integro da regalare secondo kit che non avevo trovato in negozio è questo che è un balea set a regalo al profumo di tè chai e zenzero composto da gel doccia crema mani e luzione corpo sono davvero molto molto carini questo si apre senza difficoltà e poi veramente il pack è stupendo questo è la body lotion questa è la crema mani e questo è il bagno schiuma gel da doccia sono carinissimi allora questo ricordo che fosse sotto i 4 euro 3 99 comunque poi vi lascio tutto mentre questo costava un po di più però ovviamente le quantità sono diverse e sono davvero molto molto carini diciamo che io ho fatto l'acquisto online per queste cose poi dovevo arrivare una spedizione gratuita e ci ho aggiunto delle cose che non avevo trovato in negozio vediamo un po' quello allora loro mi hanno mandato in regalo questo bagno crema doccia al latte e al miele e io senza saperlo ho comprato proprio il sapone mani al miele e al latte ne ho sentito parlare benissimo questi saponi mani sono tutti buoni tutti buoni e allora ne ho approfittato poi questo io non l'avevo visto in negozio l'ho trovato sul sito e ho voluto provarlo è una polvere volumizzante per capelli presumo presumo che sia come uno shampoo secco che si mette poi sulla sull'inizio dell'attaccatura dei capelli e dovrebbe volumizzare infatti ho trovato dice allora polvere volumizzante per capelli al profumo di melagrano non lasciare residui versare il prodotto sul palmo della mano e distribuire sui capelli asciutti per un migliore risultato volumizzante applicare la polvere direttamente sull'attaccatura dei capelli ecco io questo non l'avevo visto in negozio ma con tante cose belle che ci sono probabilmente mi è sfuggito l'ho visto sul sito e quindi ho deciso di provarlo poi vi farò sapere altra novità per me ovviamente sono i peeling mani che la non avevo trovato erano finiti quindi ne ho acquistate quattro bustine 1 2 3 e 4 perché adesso che arriva l'inverno comunque le mani sono screpolate stanno al freddo è vero che io mi metto sempre la crema mattina e sera e durante la giornata ma comunque è così poi ho preso anche questa body lotion all'acido ialuronico che mi sembrava interessante lozione corpo e siero idratante due in uno con acido ialuronico e vediamo un po' com'è poi ho preso un peeling gel per pelli miste e normali queste sulla mia pelle fanno sempre miracoli io almeno due tre volte a settimana faccio il peeling a volte chimico a volte meccanico può sembrare tanto ma avendo una pelle grassa e in questo momento che sono in menopausa e soffro davvero di sudorazione abbondante la pelle mi rendo conto che ha bisogno di più attenzione ecco quindi facendo questi peeling la pelle mi rimane più pulita mi rimane molto più luminosa più bianca più chiara insomma cioè io ho bisogno del peeling alla faccia sia chimico che meccanico a volte lo faccio meccanico a volte lo faccio chimico poi cose già conosciute ho preso sempre per arrivare alla spedizione gratuita che va bene due idrogel per gli occhi ma questi sono ormai conosciutissimi sono buonissimi sono ricchi di siero io ci faccio anche due applicazioni perché sono davvero molto molto buone anche se magari non si dovrebbe poi ho preso la mia immancabile acqua spray per il viso e la uso e la riuso soprattutto quando ho il calore eccessivo quindi vado in bagno me la spruzzo e si sta benissimo ho preso un altro kit e questo non lo apro perché magari lo regalerò ma non ne sono sicura e poi due articoli che parlano di profumo e questo è un'acqua profumata aromatica della tesori d'oriente buonissima 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 molto fresca il profumo è delizioso al tè verde e alla verbena la verbena è una pianta che mi piace tantissimo ho tante acque profumate al profumo di verbena mi piace regala una freschezza particolare non è estiva è un profumo che sicuramente si può portare anche in inverno io le acque profumate le uso tantissimo dopo la doccia perché mi regalano appunto una buona profumazione mi regalano idratazione alla pelle alcune acque profumate poi che contengono oli essenziali sembra quasi che risultino idratanti sulla mia pelle quindi mi piacciono tantissimo io le uso e le riuso magari vi farò anche un video sulle acque profumate dovrei farvi centocinquantamila video ma i tempi sono quelli che sono quindi ho in mente mi sono preparata la mia scaletta ho in mente un sacco di cose da fare abbiate pazienza riuscirò a fare tutto ma purtroppo con il tempo a disposizione e poi come ultimo ho preso questo profumo allora come vi dicevo nel video tag profumo non amo particolarmente anzi non amo per nulla le profumazioni gourmand molto simili ai profumi delle torte in cucina dei biscotti questa però a parte cioè scusate mi ditemi voi ma cioè sembra un muffin è uno spettacolo non ha un profumo così ehm tortoso ecco chiamiamolo così cioè una vaniglia ma una vaniglia che non sa di cucina non sa di torta allora a me piace molto cucinare uso la vaniglia bourbon eh in polvere che costa veramente una salassata cioè un rene ma la compro una volta all'anno in un vasettino ne basta veramente uno zic e nelle torte nei biscotti la rilascia quel profumo davvero molto molto intenso che se voi abbondate ehm risulta quasi nauseabondo ecco però questo ha un profumo di vaniglia non vaniglia da torta una vaniglia mischiata alla caramella mou avete in mente quelle caramelle che vi si attaccano ai denti alle otturazioni che però mi piacciono tantissimo profumo di alpellibe ecco una cosa del genere mi piace molto soprattutto mi piace perché siamo eh in un periodo dell'anno in cui i profumi eh dolci profumi gourmand mh stanno bene insomma se fosse magari di estate non lo porterei mi piace tantissimo e anche se io non apprezzo particolarmente il profumo di vaniglia questa vaniglia mi piace tantissimo e nulla questi eh sono stati i miei acquisti su dem online ehm volevo proprio condividere con noi con noi volevo condividere con voi queste chicche che io non avevo trovato in negozio quindi eh l'acqua profumata di tesori d'oriente questa polvere volumizzante e questi due kit che mi sembrano davvero due idee molto carine molto molto carine ed economiche da fare eh come pensierini per Natale io eh qui stacco vi saluto vado a preparare le schede eh per i miei bambini di catechismo che oggi abbiamo catechismo eh qui a Lecco sta piovendo e grazie a Dio io dico perché abbiamo bisogno anche dell'acqua le nostre montagne hanno bisogno dell'acqua sulla Grigna ha nevicato e chi non conosce le montagne del circondario delle delle chiese deve venirci perché la Grigna è eh una montagna bellissima ha nevicato c'è la neve e questo ci fa capire che siamo proprio in inverno per fortuna è il tempo che a me piace la pioggia fare il freddo eh perché mi piace stare a casa oggi devo uscire ma a me piace stare in casa fare le mie cosine eh col tepore della stufa mi dà quel senso di accoglienza di protezione eh potrei far a meno riuscire ma devo uscire perché mi aspettano le mie trenta bestioline di terza elementare io vi saluto vi ringrazio eh per essere sempre eh con me per supportarmi tantissimo mh per tutti i bellissimi commenti che mi lasciate eh mai scontati mh sempre molto ehm come dire eh insomma pochi commenti ma che eh si capisce che eh la gente ha guardato il video fino alla fine e questa per me è è veramente una grandissima soddisfazione io faccio questi video per divertimento credetemi perché eh non ambisco ad avere eh chissà quante iscrizioni mi diverto mi piace eh e quindi eh è veramente la soddisfazione maggiore quella di veramente vedere che eh i commenti che voi fate sono sempre appropriati sempre molto educati eh mirati a quello che vedete davvero vi ringrazio vi ringrazio davvero tantissimo siete delle persone stupende delle persone preziose che rendono la mia vita eh un pochino più bella di quello che è che già la mia vita è bella e devo ringraziare il signore per questo io vi ringrazio vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao